Diventa ufficiale quanto già da qualche giorno era trapelato. Durante il ritiro in Turchia che si svolgerà dall'8 al 15 dicembre, la Sarretana disputerà due amichevoli. In realtà affronteranno prima il 10 dicembre il Fenerbace e poi il 15 l'Alania Spor. Entrambe gli amichevoli si svolgeranno presso l'Alania Oba Stadium, due test utili per testare la condizione generale del gruppo che arriverà a questi appuntamenti dopo una settimana abbondante di lavoro. Dal lato Davide Nicola e il suo staff provvederanno a ricaricare il serbatore delle energie, anche perché sono ben 23 le gare da giocare. Dall'altro si lavorerà su principi di gioco e soluzioni tattiche per poter ampliare il bagaglio di conoscenze. Chiombre e Fazio saranno salvo sorprese e disponibili per le prime gare del nuovo anno, ma Zocchi invece dovrà recuperare dopo l'intervento al ginocchio. La Sarretana si allenerà per sette giorni al Meri Rosi per poi volare in Turchia. Una settimana di ritiro all'estero, due amichevoli fissate e poi ritornano in sede per proseguire la preparazione verso la ripresa del campionato che avverrà il 4 gennaio all'Arechi contro il Milan. Per quella data Nicola potrebbe già avere a disposizione i primi rinforzi, ma si spera che anche l'Arechi sia finalmente pronto. Dal comune non arrivano comunicazioni ufficiali, ma filtra una cauta fiducia circa la possibilità che tra qualche giorno si possa passare all'azione. Sarebbe un peccato del resto sprecare questo lungo periodo di stop del campionato senza intervenire.